La patrona della pallavolo Teatina, Giustina Angeloni, prima di tutto le conferme? Sì, abbiamo confermato sei elementi della passata gestione, si tratta della capitana Culiani e Di D'Angelo, della centrale Simona Galliero, abbiamo confermato la palleggiatrice Ramona Ricchiuti, e abbiamo confermato anche Alice Di Tonto e poi la giovane Maiezza, che quest'anno giocherà libero. Molti sono gli arrivi previsti e anche di assoluto spessore. Lestini, che è una schiacciatrice di posto 4, con esperienze assolute in Serie A e in Serie B1, è l'opposto Gotti, che assolutamente a nostro parere non farà rimpiangere una pur bravissima giocatrice che Alchieti ha dato tanto. Come Lorenza Lupidi che sta nell'altino. Abbiamo deciso di lanciare una campagna di abbonamenti, non solo per procurarci eventualmente i mezzi finanziari che servono per rafforzare ulteriormente la squadra, ma anche e soprattutto per testare quale è l'interesse della città nei confronti di questo fenomeno nuovo della pallavolo teatina, della pallavolo femminile, che ricordiamo quest'anno è in B1, ma che ha come prospettiva e come obiettivo strategico il portare Chieti femminile in Serie A. Ci sono tre tipi di abbonamenti. Il primo, che è quello che chiamiamo così ordinario, è di 50 Euro. Poi c'è l'abbonamento del socio sostenitore, che è di 100 Euro. E poi c'è l'abbonamento Gold, di 500 Euro, riservata a coloro i quali effettivamente vogliono dare una mano importante.